Il prossimo anno la città di Legnano sarà chiamata a celebrare il centenario di nascita di uno dei suoi figli che maggiormente hanno contribuito a darle lustro, Felice Musazzi, attore dialettare, autore e regista, nonché fondatore della compagnia teatrale dei legnanesi. Per onorare degnamente questa significativa ricorrenza, la famiglia, con un gruppo di persone a lui care, ha dato vita a un comitato che, da tempo, sta lavorando all'organizzazione di una serie di iniziative culturali. Il progetto si prefige di fornire un approfondimento dell'avventura umana e professionale di un uomo che ha dedicato con passione e profonda dedizione la propria vita alla diffusione delle tradizioni locali e al teatro. È prevista la pubblicazione di un libro, con documenti e immagini in gran parte inediti, una mostra interattiva con fotografie, filmati e documenti per ricostruire le tappe del suo percorso di vita e, infine, tre serate, dislocate nei cortili in diverse zone della città, con performance tratte dai testi di sua produzione. Le celebrazioni ne hanno ottenuto, tra gli altri, il patrocinio del Comune.